Il tentativo di mettere alla pari una situazione dell'Inter con la situazione della Juventus piuttosto che di altre squadre che assolutamente non era così e quando ti comporti bene o ti comporti normalmente perché il bene sta per ti comporti in maniera normale e se è accusato invece da chi non si comporta bene della stessa cosa tanto per mettere tutto insieme con questo ti dà molto fastidio